La più grande scavatrice meccanica del mondo è entrata in azione nelle miniere carbonifere dell'Illinois. Questo colosso, mosso da un motore della potenza di 1200 cavalli, è capace di abbrancare circa 32 metri cubi di terra col suo vastissimo cucchiaio che può ospitare comodamente sia un'automobile che 32 persone. Grazie a tutti! Grazie a tutti!